Non c'è nulla, è solo per i media, è solo propaganda, ma non c'è nulla. È normale, non è così come si senti nelle notizie. Nella parte sud, sì, è molto male, ma la gente vive, si tratta, non siamo arrivati per questa razza. La situazione è molto normalissima, non c'è nulla. Chiaramente chi sta in Libano, che ha rapporti familiari in Italia o italiano che si trova in Libano, si trova chiaramente psicologicamente un po' preoccupato. Noi eravamo per una vacanza e siamo dovuti andare perché i figli, parenti, amici, tutti che ci chiamavano, abbiamo dovuto rientrare. Il problema è che se succede qualcosa, c'è un unico aeroporto e lì si blocca e dovremo rimanere lì.